salve ragazzi e bentornati sul canale di gameplay di varridoni sono rimaste poche cose da fare su smash in realtà ci manca da sbloccare luigi qui c'è la candela che mi sta dando fuoco si può sbloccare un'arena nascosta e nello specifico il regno dei funghi e poi il sound test in questo video cercheremo di sbloccare l'ultimo personaggio perché mi ha già selezionato cercheremo di sbloccare l'ultimo personaggio luigi e per farlo dobbiamo ahimè completare tutti i bonus con i bersagli con tutti e otto i personaggi iniziali dovrebbe essere questo comunque cominciamo con mario vediamo se ciò ha seccato sì allora ragazzi visto che questa qui è una cosa abbastanza lunga non so se farò dei tagli o se terrò il gameplay completo vediamo un po fatemi osservare la mappa in teoria in teoria l'unico bersaglio che possiamo prendere una sola volta prima di morire è quello in basso a sinistra quello a destra lo possiamo prendere con una palla di fuoco quindi proviamo ci manca quello aspetta 12 oryuken bene questo con una palla di fuoco dovremmo riuscire a prenderlo un pochino più indietro quella rompiamo anche questo vediamo se riesca a rompere questi magari senza rischiare la ve la pellaccia ok attenzione bene così ok con mario ce l'abbiamo fatta proviamo con yoshi yoshi finora non l'abbiamo ancora usato sto registrando sì bene fatemi guardare bene dunque quello di non ritorno in teoria dovrebbe essere l'ultimo in basso a destra allora intanto spacchiamo questi mamma mia yoshi qui vola giustamente da yoshi story ne abbiamo e quello come cacchiarola lo prendo devo lanciare aspetta 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 ok bene bene poi ce n'è uno qui sopra e mi faccio preso ok questi due sulla sinistra quanto cammina questa arena per niente va bene bene ce la facciamo preso no porca vacca preso ok ci mancano soltanto quei due lì sulla destra vediamo forse ho capito ragazzi ma ma guardate voi come cacchiarola si fa ci ho messo un po di tentativi in realtà e infatti vedrete dei tagli ma tanto qui non è che devo farvi vedere come ci riesco al primo colpo mi serve solo di farvi vedere come fare va bene proseguiamo andiamo con donkey allora visto che non abbiamo il tempo limite posso controllarli come si deve quello di non ritorno dovrebbe essere l'ultimo in basso a destra quindi intanto questi spacchiamoli con i metodi convenzionali mi chiedo giusto quello forse facendo ok ok lo sbatti sbatti terra poi ce ne sono altri qui giusto no aspetta ok ok calma manca soltanto questo così va bene molto più facile del previsto con kibbi che poi in realtà mi sembra che con qualcuno di questi già l'avevo fatto solo che siccome non me lo ricordo io nel dubbio li rifaccio tutti quanti così chi vuole vedere come si fa non si deve andare a vedere tutti quanti i video allora ci sono quelli sulla sinistra che sono tosti ma non impossibili quindi andiamo a rompere quelli lì a sinistra fate sempre attenzione col volo perché su smash kirby ha l'abilità di volo limitata non vola in eterno come sul super nintendo quindi cercate di usarla saggiamente adesso fatemi vedere ancora questi due li possiamo colpire in teoria anche l'ultimo però siccome io voglio andare tranquillo quello me lo tengo per ultimo così in caso di caduta libera questi dovremmo poterli colpire senza problemi vediamo eh uno due e tre la link anche link non lo abbiamo ancora usato su smash penone dunque oh mamma quello lì in fondo non so se dobbiamo colpirlo con una bomba comunque dobbiamo arrampicarci quindi con questo si creano le bombe perfetto e qua uno due ce la facciamo ce la facciamo no fermo qua aspetta forse quello devo saltare saltare e lanciargli la bomba esatto questi li rompiamo cadendo immagino ah aspetta bene quello dovrebbe essere l'ultimo che sicuramente dovremo distruggere con una bomba prendendo le misure come si deve una ah aspetta aspetta uno due e tre bene torniamo qui ora vediamo se riesco a fare ok ok niente bomba per fortuna e anche link l'abbiamo fatto vai con fox quello sulla sinistra sicuramente con la pistola laser eh va bene cominciamo a romperli uno due e la per quanto riguarda quello no mi salda qui eh sì oh invece al primo colpo ce n'è uno qui so qui sopra ok ma uno due eh e quello come cacchiarola lo prendo ragazzi quello non so come prenderlo eh fatemi pensare intanto che mi schiarisco le idee prendo questi ah ok 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 tutto a posto dovrei poter fare questo così eh ah mamma mia me l'ho dimenticato di questo qui sotto ok eh proviamo così bene mi fruto una gamba ah eh fox l'abbiamo fatto samus dunque quello sotto sicuramente lo dovremo fare con l'onda energetica e invece quello lì a sinistra vediamo eh no ah ok ci siamo piano quello sulla sinistra è morte certa quindi probabilmente lo dovremo prendere per ultimo ok aspetta posso usare questa piattaforma qui in teoria aspetta c'è la freccia preso ok però nel momento che io scendo qui a sinistra non posso più risalire come cazzo ah aspetta però forse potrei fare una cosa del genere ok dimentico sempre che si può fare anche il doppio salto quindi rompiamo questo 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 per un attimo ho avuto il presentimento che questa piattaforma cadesse ok abbiamo fatto anche questo qui in teoria dovrebbe mancare soltanto Pikachu perché dovevo usare gli otto personaggi di base vediamo l'ultimo da prendere anzi no aspetta perché Pikachu può fare può lanciare le scariche elettriche che passano sulle pareti esatto quindi anche questa qui a destra dovrei poterla prendere allo stesso modo idem per questa aspetta eh ok quindi qui preso e se cadevo lì dentro non lo so vabbè comunque sì 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 dovrei farcela col triplo salto suo quindi ok calma oh oh dovremmo aver finito sì ragazzi Luigi bene e lo affrontiamo con Pikachu immagino ok ultimo personaggio sbloccabile è in singolo senza tutto il bordello che fai con tuo fratello posso concentrarmi su di te con meno difficoltà ecco no ecco no no non l'ho preso pica e stiamo così per me va bene wow eh ci ho pensato dopo la oh pim no maledizione la grande ragazzi abbiamo sbloccato Luigi ora puoi usare Luigi l'eterno secondo in pratica l'eterno sottoposto l'eterno secondo bene abbiamo sbloccato tutti quanti ragazzi dunque per sbloccare l'arena nascosta il regno dei funghi mi sembra che dobbiamo finire non so se finire il gioco giocare in tutte le arene con tutti i personaggi incluse quelle in multiplayer quindi potrebbe essere una cosa lunga e non so se lo farò poi vedremo in caso cioè ci potrebbe volere un po' quindi mi prenderò un altro gameplay per farlo ma se ne parlerà più in la anche perché giocare in multiplayer potrebbe essere un problema mi inventerò qualcosa per il momento questo volevo farvi vedere sbloccare tutti i personaggi e il gioco di per sé detto questo mi fermo e vi do appuntamento alla prossima volta con i nuovi gameplay lasciatemi un like iscrivetevi al canale e commentate detto questo io vi saluto ciao ragazzi abbraccio ciao ciao